Salve a tutti ragazzi, bentornati, finalmente eccoci qua siamo sbarcati su FC25 con questo modulo davvero devastante credetemi vi farò vedere le mie istruzioni, le mie tattiche date a questi giocatori favolosi, osculato purtroppo diciamo con i non scambiabili però vi farò vedere che questo modulo è davvero rotto io chiudo la intro, vi ricordo sempre di lasciare un bel like, un bel commento e soprattutto nel commento scrivete se vi trovate meglio con un'istruzione giocatore vi so che quest'anno è pieno rispetto a quelle che vi metto io ma magari sull'attaccante vi piace di più il falso nuova al posto che la torre, al posto che il rapace così scrivete qua sotto, testiamolo insieme e troveremo comunque un modulo davvero rotto, infatti è il modulo meta di FC25 ragazzi io vi auguro una buona visione, un bacio dal sibe, bella raga ed eccoci qui ragazzi siamo pronti a farvi vedere le tattiche e le istruzioni di questo 4x411 sono uno devastante raga allora incominciamo subito nel farvi vedere la mia squadra che come potete vedere è abbastanza forte, lo ammetto, purtroppo tutti non scambiabili andiamo con Courtois in porta poi abbiamo Van Dijk, King, difensori centrali Arnold, Mendy, terzino destro e sinistro, scusatemi Traoré, Sterling, Cicci, Valverde, Snyder poi proverò anche a invertire Snyder con Bellingham che adesso abbiamo provato a metterlo tre quartiste ed è una cosa allucinante però possiamo provarlo anche il centrocampista e attaccante abbiamo provato lui raga che ve lo consiglio vivamente di farlo soprattutto se siete bravi a skillare perché è qualcosa di eclatante mi sono trovato davvero bene all'inizio ero dubbioso ma alla fine ho trovato un ottimo giocatore lui adesso ragazzi passiamo alle nostre tattiche e le nostre istruzioni allora ragazzi andremo a mettere 4x411 personalizzato ovviamente passaggi corti passaggi corti perché con Equilibrata ho notato che i nostri esterni e la prima punta non fanno assolutamente un inserimento giusto invece con passaggi corti ce la creiamo noi l'azione e gli esterni e l'attaccante hanno diciamo il tempo per partire e fare i nostri inserimenti che tanto attendiamo dai nostri attaccanti quando vogliamo andare a fare gol invece con contropiede anche ve lo consiglio ma dovete essere bravi nel nel diciamo costruire una manovra veloce o comunque con massimo uno stop e passaggio diciamo un controllo perché se già teniamo un po' di più la palla con un giocatore c'è un distacco enorme vedremo già tutto l'attacco che è andato lontano e invece il nostro giocatore lì che non sa proprio dove passarla e rischiamo che se ci rubano palla ci purgano raga veramente ci prendono palla possiamo già posare il joystick perché 99% delle occasioni sarà gol dell'avversario quindi passaggi corti e per chi un po' più pratico contropiede va anche bene qui andremo a mettere equilibrata 60 ragazzi perché 70 li usano i pro player ma come potete vedere che capita anche loro 70 se non riuscite a pressare comunque sbagliate un contrasto andate a prendere gol sicuramente perché gli attaccanti avversari saranno liberi più che altro con molto spazio per effettuare gli inserimenti dovuti invece con il 60 ho trovato che sia la la giusta il giusto valore diciamo per contrastare sia un'equilibrata 50 che è troppo arretrata la difesa che sia una difesa troppo alta sul 70 60 è la giusta via di mezzo quindi vi consiglio equilibrata ragazzi andiamo sui ruoli giocatori partiamo dal portiere qui andiamo a mettere portiere classico difensivo non andate a mettere come tutti fuori dai pali solo per prendere plus plus perché non serve assolutamente niente raga quest'anno la cosa del plus plus è un po' contraddice molto questa cosa perché se voi andate a metterlo si ditemi che il giocatore mi droppa di più invece no perché vi sballa tutto il modulo quindi come potete vedere io ho tanti giocatori che hanno il plus plus ma io non li andrò a mettere andrò a mettere le giuste tattiche e istruzioni in base al modulo che stiamo usando infatti Arnold andiamo a mettere bilanciato terzino Van Dijk difensore difensivo King difensore difensivo in questo caso lui ha il plus plus quindi ben venga Mendy terzino bilanciato Sterling ha la bilanciata e Traoré ha la bilanciata qui potevo mettere il plus a Sterling facendo attaccante interno o comunque anche ad Adama Traoré però ragazzi giocando con questo modulo dobbiamo avere gli esterni o ale larghi è inutile andare a mettere attaccante interno perché andrà a chiudere la difesa quindi anche l'attaccante si troverà in difficoltà a fare inserimenti che porteranno a un'azione da goal invece così giocando un po' sul centro campo tra Valverde e Bellingham io vi faccio l'esempio sulla mia squadra temporeggiando avrò l'attaccante che si fa vedere o comunque mi fa diciamo lo scatto e in più c'ho le ali che partono raga poi con questo modulo e mettendo queste tattiche i terzini ho i terzini dietro praticamente si spingono leggermente vicino al centro campo cioè la loro zona oltre non devono andare perché come vi ho detto rischiamo di andare a prendere il contropiede comunque temporeggiando quei centrocampisti avremo le ali che faranno degli ottimi inserimenti ai nostri centrocampisti andiamo a mettere entrambi i box to box bilanciato perché dipende ovviamente anche dai giocatori che avete ma più o meno sono molto simili poi cambierà l'overall e diverse cose ma il box to box serve che sia esempio Snyder in avanti è molto utile nel dribblare passare soprattutto lui che ha il perk per il passaggio in difesa dà fastidio non è fortissimo ma dà fastidio Valverde invece come già sappiamo tutti è fortissimo in difesa e in attacco dà fastidio è un po' l'incontrario di Snyder insieme si uniscono e fanno una bella coppietta lì in centrocampo Regista ha il trequartista cioè Bellingham che proverò ogni tanto switchare con Snyder e qua mettiamo Regista bilanciato in modo che lui è propenso stare dietro la punta sarebbe un po' come un attaccante ombra però svaria di più l'attaccante ombra è praticamente come fosse una seconda punta invece Regista è effettivamente il C.O.C il nostro trequartista di classe e qui andate a mettere ovviamente un giocatore con buone tecniche adesso io Snyder Benningham vi consiglio un Dybala un Palmer un po' TM molto forte comunque giocatori tecnici ma anche agili in attacco per finire andremo a mettere Rutter attaccante avanzato offensivo se avete per l'attaccante il discorso cambia bisogna mettergli il plus plus se ce l'avete quindi il doppio più se avete un attaccante con il doppio più andate a mettere quello che lui ha se ne avete solo uno ad esempio Rutter ha solo il falso 9 se non sbaglio non lo mettiamo andiamo a mettergli attaccato avanzato offensivo se avrà il plus plus rapace andiamo a mettergli rapace e così via dicendo ma solo per la prima punta perché è fondamentale niente ragazzi io spero che vi piaccia questo modulo io mi sono trovato bene sono passato dalla terza divisione a praticamente le light vi faccio anche un attimo a vedere quindi passiamo qua andiamo indietro andiamo su gioca rivals come potete vedere sono quasi alla metà delle light ragazzi scrivete nei commenti se provate anche a mettere sugli esterni attaccate interno esterno così o diverse cose che secondo voi sono più opportune rispetto a quello che vi dico io e testandole insieme scriviamo qua sotto nei commenti se alla fine è più efficace magari un'altra istruzione a un giocatore che è quella che attualmente vi sto dando io io comunque personalmente vi sto trovando bene con queste istruzioni e penso di non cambiarle però le testerò per per voi diciamo i vostri commenti dove mi andate a consigliare certe istruzioni a diversi giocatori ragazzi io vi auguro un buon proseguimento non voglio perdermi nelle chiacchiere perché sennò questo modulo finisce di andare in meta quindi voi siete di nuovo alla ricerca di un'altra meta e questo video non servirà a niente quindi vi lascio la visione mi raccomando ragliardate subito con questo modulo perché vi darà grandi soddisfazioni io vi ringrazio ancora di cuore per il vostro supporto il vostro sostegno un bacio dal Sibo bella raga ciao Grazie per la visione!